Legalità e sicurezza nelle scuole, un progetto provinciale per Grosseto, per la Maremma, del quale parliamo con il prefetto Anna Maria Manzone. Allora, qual è il messaggio che con il progetto si vuol far arrivare agli studenti, alle scuole, ai professori e un po' a tutto il mondo della scuola? Il progetto che è partito l'anno scorso, Legalità e sicurezza, dedicato alle scuole, vuole lanciare un messaggio chiaro che le norme che riguardano la sicurezza sui luoghi del lavoro, le norme che riguardano la legalità nel lavoro, sono norme che vanno rispettate perché nello stesso tempo difendono il lavoratore. Questo è un progetto che abbiamo condiviso qui in prefettura con le altre istituzioni del territorio che hanno competenze nella materia della sicurezza, nella materia della legalità, quindi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Direzione Territoriale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL, la ASL, anche l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, con ovviamente l'Ufficio Scolastico Provinciale. Ed è dedicato agli studenti delle quinte classi e degli istituti superiori perché saranno i primi ad avvicinarsi al mondo del lavoro. È un progetto che io direi a 360 gradi, visto tutti questi enti che vi partecipano, perché ognuno di loro per la parte di competenza tenterà, cercherà di diffondere nelle scuole il messaggio che la sicurezza e la legalità sono a beneficio del lavoratore e della stessa collettività, di tutti i cittadini.